Ascolti, se dovesse dipendere da lei, qual è una cosa che farebbe lei? Che farebbo io? Sì, che farebbe lei, qual è una cosa? Ammazzarli tutti. Quindi non ha nessuna fiducia sui politici? No, 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 nessuno. Nessuno. La ringrazio. Prego. Certo, si immagini. È meraviglioso. È meraviglioso? Meraviglioso, no, bello, è meraviglioso. Sono contento, sono proprio contento. E beh, a me non me lo dica che io da quando ho primo voto l'ho dato sempre al Partito Democratico. A Partito Democratico. Mi marito è carabiniere, posso, posso, siamo tutti democratici noi, no? Eh sì. Tutta la famiglia, mi figlio poi ci si ammazza quando lo sa. Qui è il Partito Democratico? Madonna, quando è andato sul coso, mi mette... Dove? Eh? Dove? Quando è andato su adesso Prodi. Sì. Oh, dico mio, non lo sopportava. Dice, prendiamo un bel colpo, prendiamo invece se la diluzione è stata. Invece è il Partito Democratico, tutta un'altra storia. Mamma mia, per carità, non mi dica del Partito Comunista, la faccia e il martello che proprio... Non ci piace. Non ci piace, ma non ne voglio proprio sapere fino a che voglio. Per me solo Berlusconi esiste, poi lui mi piace, voglio. Ma Berlusconi non sta col Partito Democratico, mi scusi. E con chi sta? Il Partito della Libertà, signora. Beh, sempre democrazia, no? Beh, pure il Partito Comunista è democrazia. Beh, vabbè, ma insomma Berlusconi è democratico. E a me mi piace il Partito Democratico, mi piace il Partito Democratico. Però di politica mi ha detto che non si interessa. Niente, no, 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 niente, niente, niente. Però il Partito Democratico sembra una cosa seria. Berlusconi ha fatto tanti cambiamenti, di fare tutte le cose al positivo. Siccome ci sono le leggi combinate dalla sinistra e poi di rimettere in ordine nelle leggi di destra. Comunque ha conquistato 21 regioni su 5. La spazzatura? La spazzatura la vuole eliminare da mezzo e... Finalmente. Meno male. E invece Veltroni cosa voleva fare? Veltroni voleva rimettere la spazzatura, la differenza tra Veltroni e Berlusconi. No, no, io no.